Il progetto Gulliver si amplia, sempre più persone vengono in via Toscana a conferire i loro abiti, immobilio o oggetti elettrodomestici. La Gulliver con questi beni fornisce 140 famiglie per il reparto alimentare e 600 famiglie per quanto riguarda l'abbigliamento, elettrodomestici e immobilio. Il surplus, che è molto, viene messo nella grande mostra di via Toscana, come fosse un'ichetta dell'usato. Con le donazioni che lasciano le persone, riusciamo a fare un'economia per fare donazioni continue e opere in città. Oggi abbiamo visto la donazione di sollevatori e ciclette, i giorni scorsi abbiamo ripinto e pulito un'ala intera del mengarone a Pesaro, sono in ordine dei defibrillatori per la città di Pesaro, quindi è un continuo donare e rimettere in circolo quelle economie che facciamo grazie alla vendita nel mercatino dell'usato. Quindi il nostro invito è quello alle persone dell'intera provincia di Pesaro di portare in via Toscana 111 a Pesaro, quello che non usano più ed è ancora riutilizzabile per le famiglie bisognose o per l'economia collettiva. Ci tengo a ringraziare l'associazione Gulliver per la donazione molto gradita di questa mattina, strumenti assolutamente utili per gli ospiti di questa struttura. Ringrazio il presidente Boccanera, tutti i volontari per avere posto l'attenzione e verso una struttura importante come questa e soprattutto verso gli ospiti di Casa Aura che sono spesso persone non autosufficienti, con patologie gravi, quindi veramente un grazie molto sentito per questa bella donazione. Oggi abbiamo accolto qua l'associazione Gulliver che praticamente ha donato a questa struttura dei sollevatori e delle ciclette per i nostri anziani. Voglio appunto ringraziare questa associazione perché penso che abbia fatto un dono veramente utile per questa struttura e soprattutto per l'attenzione che ha voluto manifestare verso i nostri anziani. Diciamo che è molto gradito anche per gli ospiti perché questa pandemia un po' ha costretto a vivere soprattutto la struttura interna anche perché non è dato più la possibilità a loro di uscire per cui pensiamo che all'interno delle nostre attività veramente questo dono possa essere utile anche a una movimentazione per le articolazioni e quindi già qualche ospite si è incuriosito e non vede l'ora di iniziare questo tipo di attività.